Ma quanto è veloce la ricarica veloce del Galaxy S8? Lo so, è un dubbio che ci attanaglia tutti e adesso scopriremo la realtà. Galaxy S8, i tempi di ricarica. Bene amici di PantareiNews.com Vediamo quindi quanto impiega l'alimentatore con ricarica veloce del Galaxy S8 a ricaricare completamente la batteria. Come vedete lo inquadro for meglio. Sono le 10.44 di giovedì 20 aprile. Anzi adesso sono le 10.45 di giovedì 20 aprile. Andiamo a effettuare la ricarica e vediamo quanto tempo impiega per arrivare al 100%. Ops, mi sono sbagliato, ma inserito al contrario. Ovviamente scherzo, si tratta della USB Type-C, per cui qualunque verso è sempre quello giusto. Sono le 10.45, siamo al 7%. Vediamo quanto tempo impiega effettuare una ricarica completa. Grazie. 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 Dunque amici di Pantaren News. Quanto è veloce la ricarica del Galaxy S8. L'adattatore Fast Charge riesce a caricare il dispositivo in un'ora e mezza. rispetto al dispositivo del scorso anno, il Galaxy S7 il Galaxy S8 non ha ricevuto un grande update rispetto a questa caratteristica infatti anche il Galaxy S7 lo scorso anno ho avuto la fortuna di provarlo direttamente a Barcellona ha una ricarica veloce ho effettuato anche questo test direttamente su Galaxy S7 ha una ricarica veloce di 1 ora e 20 in realtà quindi il Galaxy S8 ha impiegato più del Galaxy S7 a ricaricarsi pur avendo entrambi una batteria che ha la stessa capacità cioè 3000 mAh dunque i tempi di ricarica sono gli stessi nulla è cambiato da questo punto di vista mi raccomando mettete un like condividete il video e iscrivetevi al canale appena nato